Il mercato si fiamma nel mese di luglio, a Torino i tifosi suono in subuglio. CR7, CR7, Terra Casella, la Juve ha trovato la sua nuova stella. Ronaldo è chiuso i punti con Florentino e la Juve lo porta dritto a Torino. Le voci si rincorrono all'infinito, Ronaldo bianconero spunta in ogni sito, ogni giornale italiano. Sulla notizia ci si fionda, Ronaldo Juve che bomba in piazza e psicosi si raduna una gran folla. La Juve è formato, c'è che ho sapeso davvero col, ma Ronaldo Torino adesso è casa tua. Arriva allo stadio, ma l'olta che grande, ma l'avrà un'altra attiva, è stata temeraria. Ma Ronaldo vuole vantagliare aria. C'è il messetto e il bianconero, no, non si crede. È il corpo del secolo per i bianconeri. La patricià, la patricià. Sono 100 milioni per il portoghese, l'aspetto di 980 a Torino, potrebbe aver cambiato il destino. Cristiano di cuore a piazza, è adesso davvero. E la Serie A potrebbe rilanciare, il calcio italiano potrebbe ripartire. Ogni stadio italiano verrà riempito, per vedere giocare un mito. La classe A, Ronaldo non manca mai, si aspetta il suo debutto con ansia ormai. I tifosi bianconeri credono in lui, è la sette zebrata, Ronaldo già tua. Quanto stai bene con quella maglietta fina, la maglia juventina è viva in copertina. Agosto per fortuna si avvicina, a Torino chiunque di te si fida. I sogni sono belli, a volte diventano reali, il CR7 scelto il campo mostra quanto vali. C'è il tuo spallone d'oro e trofei vari, così vicini, non so mai salire. Il CR7 bianconero, no, non si crede, è il colpo del secolo per i bianconeri. Real Madrid ciao, real Madrid ciao, sono cento milioni per il portoghese. L'aspetto di 980 a Torino, potrebbe aver cambiato il destino. Cristiano di cuore apprezzato, è adesso davvero. Ronaldo è bianconero 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 Banco di cuore apprezzato, è bianconero Banana è bianconero